Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti su Q Incense. Oggi voglio parlarvi di un acquisto recente che ho avuto modo di provare in questi giorni e che rappresenta una delle novità più interessanti del 2021, presente nelle vetrine di tutte le profumerie. Non è semplice spiegare quanto io mi sia innamorata di questa fragranza che a tutti gli effetti è diventata una delle mie preferite in assoluto e che sto portando molto volentieri in queste prime giornate di fresco, che si alternano ad altre ancora piuttosto calde, di quelle che preannunciano un autunno dolce e speziato. E proprio le note speziate e anche un accenno prettamente autunnale caratterizzano questa fragranza di cui vi parlo oggi, che è il nuovo flanker dell'Antardie di Givenchy Eau de Parfum in versione rouge. Questa è la boccetta, caratterizzata da questo rosso intenso prezioso, a metà fra il rubino e il color ciliegia, con un accento sensuale a tratti quasi dark che richiama non solo una delle note presenti in apertura, ma proprio quelli che sono i colori e le sfumature dell'autunno, della sensualità e della passione. E questa è la sua scatola, anche lei caratterizzata da questo rosso ciliegia, anche se meno sanguigno o meno intenso, che si alterna al bianco appena accennato degli spigoli, che come vedete poi evolve nel classico rosso passione tipico dell'Antardie. Di questa boccetta amo proprio il look in total red, con questa tonalità avvolgente, ma allo stesso tempo un po' gotica. I nasi profumieri che hanno realizzato questo capolavoro sono Dominique Ropion, Hen Clippo e Fanny Ball. Questo è un profumo caratterizzato da note di arancia rossa e zenzero in apertura, che sono poi quelli che si avvertono maggiormente e che rimandano a quella sensazione avvolgente e calda che è tipica dei profumi e dei colori autunnali. Questo si configura quindi come un profumo perfetto per i primi freddi, non solo per l'autunno, ma credo sia ideale anche per l'inverno. Nel cuore poi abbiamo tuberosa, gelsomino e foglia di pimento, mentre come note di base troviamo il sandalo, il patchouli e il vetiver. Partendo stavolta dalle note di base, salta subito all'occhio che non è presente la vaniglia tipica del profumo capostipite, mentre compare il sandalo, che è una nota che dà una decisa impronta legnosa e aromatica al profumo, che perde così quella dolcezza originaria che pure era molto ben bilanciata nell'antardì del 2018. In realtà si avverte un tipo di dolcezza diversa, che è principalmente fiorita e quindi con un'impronta più fresca rispetto alla dolcezza tipica della vaniglia, che è molto più calda. Freschezza che in apertura viene già anticipata dalla nota esperidata dell'arancia rossa e che poi sempre alla base è anche amplificata dalla presenza del vetiver. Nel cuore compare una nota molto particolare che è la foglia di pimento. Il pimento è una pianta che prende anche il nome di pepe garofanato o pepe della giamaica e che è molto usato in cucina in alternativa al pepe poiché lo ricorda molto anche se il sapore risulta molto più tenue. Ecco che quindi alla nota legnosa del sandalo si aggiunge anche quella speziata del pimento, che è bilanciata dalle note fiorite della tuberosa e del gelsomino che già conosciamo e che caratterizzano l'antardì. In apertura invece la fa da padrone lo zenzero insieme all'arancia rossa, due note che amo particolarmente, soprattutto lo zenzero, e che è presente anche nel tuilli di Hermès, di cui vi avevo già parlato nel video sui profumi autunnali, proprio perché questa nota per me è tipicamente autunnale-invernale. È una nota che associo sempre alle tisane e ai decotti di zenzero che io amo in particolar modo. E in effetti questo profumo ha qualcosa che mi ricorda in parte i tuilli, oltre che ovviamente il suo capostipite, l'antardì, di cui rappresenta appunto la versione più speziata e calda, leggermente pungente e che effettivamente dà forse maggiormente l'idea del proibito, grazie probabilmente a quest'aura di sensualità. Questo profumo in definitiva ha una vera e propria chicca, non solo per questi meravigliosi accordi fioriti che si alternano a quegli speziati e più aromatici, ma soprattutto per la sua raffinatezza, che va dalle materie prime utilizzate, che sono molto pregiate, fino al packaging così sensuale ed elegante che lo configurano come un capolavoro della profumeria e che tranquillamente potrebbe sembrare un prodotto di profumeria artistica. Il suo sillage è veramente buono perché la proiezione c'è e anche dopo averlo indossato per ore chi me lo ha sentito mi ha subito chiesto che il profumo fosse e in definitiva risulta molto più intenso e persistente rispetto al suo capostipite, oltre che più audace e anche più proibito. E questo probabilmente grazie alle note speziate che esaltano quella che poi è l'essenza stessa del profumo originale, che io già adoro di per sé. Bene, questa era la recensione dell'Antardi Rouge, fatemi sapere se lo conoscete, se lo avete provato in profumeria o se l'avete già acquistato. Io nel frattempo vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video, naturalmente qui su Q Incense.